Quando la serata va avanti, sale, può succedere, non riusciamo a controllare tutti, che la gente, alcuni cominciano a ballare. Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato che qualcuno sta ballando. Lo scorso sabato notte i carabinieri e fiamme gialle sono arrivati alla discoteca Dolce Verde e ne hanno disposto la chiusura. Adesso il titolare dello storico locale Earetino vuole dire la sua e raccontare cosa è successo. La discoteca era stata infatti temporaneamente convertita a ristorante in cui si fanno cene e musica con tavoli apparecchiati direttamente sulla pista da ballo. Nel locale di Castiglion Fibocchi i militari hanno trovato sia le postazioni per il controllo del Green Pass e per fare i tamponi prima di entrare, ma anche all'interno giovani che ballavano e questo è ancora vietato. Quando la gente entra dentro il locale praticamente noi abbiamo creato uno spazio musicale dove prenotiamo i tavoli. I tavoli sono disseminati in questa grande area, noi abbiamo un'area per 2000 persone di capienza. Sabato scorso c'erano 600 persone disseminate nei tavoli al posto delle piste. Però poi è chiaro che la natura della discoteca durante la serata poi viene fuori, la gente si alza e comincia a ballare. Il titolare è stato così sanzionato e sono scattati 5 giorni di chiusura. L'arma dei carabinieri ha applicato quello che è la legge, niente da dire nel loro operato, quello che non torna è la legge. Cioè questa è una discriminazione che non è assurda, perché? Perché avere uno spazio controllato e farlo chiudere perché la gente si muove in uno spazio appunto dove tutti sono vaccinati o comunque tamponati la trova una cosa assurda. Il titolare comunque lo rifarebbe, anzi a breve riaprirà. La mia intenzione è di riaprire, però mi piacerebbe prima riconfrontarmi con le istituzioni.